Buonasera persone troppo vecchie per queste stronzate, sono Nolan e questa è una citazione che si presta abbastanza bene a queste circostanze ma ripensandoci è anche una citazione diretta a Arma Letale, film del 1987 di cui oggi vi mostrerò l'adattamento a videogioco per, manco a dirlo, l'ho detto e lo ripeto, per l'amiga ragazzi mi sono fatto una lista infinita di titoli della mia infanzia che intendo ripercorrere quindi cortesemente abbiate pazienza con me abbiate pazienza però sono veramente sommerso nei ricordi fin qua e sono abbastanza basso quindi non è che siano tantissimi però sono abbastanza per farmi ci sommergere quindi abbiate pazienza e abbiate pietà c'è un motivo specifico per cui vi mostro questo gioco in particolare prima di tanti altri e il motivo è come in altri casi dell'amiga in particolare a fronte di tante altre console la musica la farò breve l'amiga era avanti alle console dei suoi tempi non solo per questioni legate alla grafica e alle prestazioni ma anche e soprattutto per la possibilità di avere una polifonia maggiore, di avere più canali audio che suonano nello stesso tempo e nonostante alcuni giochi avessero dei limiti tipo o audio del gioco o musica specialmente alcuni giochi precedenti a questo questo in particolare riesce a avere suoni del gioco e suoni di musica e di insomma e di temi originale e che tema originale ragazzi ora io questo video in particolare non so se riuscirò a farvela sentire per bene anche perché non è che posso stare così per due minuti a farvela sentire però vi metterò il link in descrizione così qui la potrete ascoltare per bene questo è uno dei temi più fighi che abbia mai ascoltato in un gioco dell'amiga sa di rock, sa di metal, l'unica cosa che gli manca sono dei suoni appropriati insomma perché giustamente il chip audio dell'amiga faceva quello che poteva ma in questo caso faceva dei miracoli e questo è un signor pezzo tra l'altro, e adesso inizio a giocare perché se non lo so sto perdendo troppo tempo però ci tenevo a dirvi che questo pezzo in particolare mi è rimasto così tanto impresso dal 1992 in cui è uscito questo gioco che negli anni me lo sono andato a riascoltare sempre di più sempre di più finché finalmente qualche mese fa sono riuscito a trovare la forza e la voglia di realizzare una cover in chiave rock come ce l'avevo nella testa da anni e anni potrete ascoltarla sul mio canale, insomma letterò il link in descrizione a questo video anche se la vedete, è praticamente la seconda o la terza nella playlist My Music che sta praticamente sotto a questa quindi non vi potete sbagliare comunque, bando alle ciance, scusate ho parlato già troppo però mi rendo conto che qua i ricordi sono più forti di me e andiamo ah, una cosa, ve lo dico fin da subito questo gioco è duro è tosto ma veramente tanto sarà molto difficile che all'interno di questa partita io riesca a farvi vedere qualcosa di più della metà del primo livello però ve lo faccio vedere lo stesso e cercherò di non rosicare più di tanto, ve lo prometto ok ve lo ricordate tra l'altro, Arma Letale? il film era abbastanza grosso all'epoca dicevo, il film è del 1987 se ve lo ricordate è quello che ha ha lanciato alla gloria di Hollywood Mel Gibson e allo stesso tempo ha consacrato la fama di Danny Glover noi qua siamo Mel Gibson lo riconoscete dalla font chioma e questo è un mondo iniziale, un livello iniziale in cui altro non fate che scegliere i livelli ci sto giocando con controlli dell'Xbox quindi ci sono un pochettino di problemi anche a livello di emulazione ancora non mi è riuscito a capire con WinWhy che è difficilissimo a dirsi ma è il nome del programma che sto usando per emulare l'Amiga ancora non ho capito come si faccia a rimappare i tasti di conseguenza essendo che l'Amiga i controller dell'Amiga i joystick joypad no joystick proprio dell'Amiga avevano tipo un tasto si ovviava alla questione del tasto scusate del salto andando verso l'alto se non fosse che fare platforming andando col salto mettendo la levetta verso l'alto o anche premendo verso l'alto non è il massimo ma magari in questi giorni riuscirò a rimappare le cose se riesco a trovare il tempo per respirare ragazzi perché io sembra che qua non ci abbia un cazzo da fare nella vita nel senso che sono tutti i giorni a fare i video la verità è che li faccio perché li voglio fare perché non c'ho il tempo di fare praticamente nient'altro e se mi va bene dita incrociate le cose tra l'altro tra poco dovrei iniziare un secondo lavoro che si va a sommare il primo sempre che si può fare da casa sempre di assistenza clienti cose online però insomma è tutto tempo che se ne va scusate sto divagando andiamo vado a farvi umiliare direttamente nella missione numero uno ok c'è una gang di criminali internazionali che stanno cercando di come cazzo si dice smuggle stanno cercando di spacciare per profitti cose droga porto soldi accetti la missione l'accetto poi non è che abbia alcuna fiducia nelle mie possibilità di concluderla in alcun modo tra l'altro la versione che state vedendo stranamente non ha i cheat all'inizio e questa è una cosa relativamente curiosa dal momento che cioè probabilmente se cerco un pochettino meglio la trovo barili che esplodono purtroppo non posso andare qua sopra magari posso uccidere lui ma si e sprechiamo un po' di proietti e mori là c'è uno squalo dicevo il film di per sé era carino era una cagatona fine anni 80 che però era divertente si era tutta incentrata sul personaggio di Mel Gibson che faceva una coppia improbabile con un poliziotto di colore ormai a fine carriera e che aveva poca voglia di rotture di scatole mentre il nostro Mel Gibson era avventato e sicuramente poco furbo ma era l'eroe d'avventura del film insomma e continuamente il suo compare ripeteva la frase sono troppo vecchio per queste stronzate curiosamente il franchise si è espanso molto oltre il primo film se ne sono 4 o 5 non mi ricordo quindi è abbastanza affascinante vedere quanto fosse vecchio per queste stronzate ma nonostante tutto continuasse con la sua con la sua carriera insomma ora non farò l'errore di buttarmi da lì perché dovrebbe cioè sembra un salto abbastanza sicuro ma ovviamente non lo è una cosa da apprezzare è che il gioco si ricorda quando rientri nei posti gli nemici che ti hai ucciso rendendolo vagamente meno stronzo ma è solamente facciata ve lo posso garantire perché il gioco fa un sacco di stronzate tipo questa ho fatto un tempo neanche a dirlo ragazzi neanche a dirlo e va a cagare e vabbè poi c'è anche lui e va e si fa meglio si va meglio andargli vicinissimo perché con un colpo lo uccidete l'avversario mentre invece sparando ce ne vuole 3 o 4 che ha perfettamente senso perché è una pistola spara sassolini mentre invece il mio piede è qualcosa di assolutamente assolutamente e là assolutamente troppo da poter sopportare e questa ora mi spara eh che pallone però cioè ragazzi ci sono delle volte in cui dico vabbè sono viziato faccio schifo ma un colpo ti dimezza la vita e se non fosse così figa la madonna Eva non fosse così figa la musica questo gioco eh no vai su non fosse così figa madonna Eva ma vi rendete conto è di una difficoltà dannata però c'è da riconoscere alcuni meriti tecnici di questo gioco che probabilmente per quelli che sono gli standard di oggi non si impressiona nessuno della serie guardate c'è la musica e ci sono i suoni contemporaneamente ci sono esplosioni ci sono il gioco che si ricorda i nemici morti e quelli non e non li puoi neanche toccare io l'ho sfiorato con un piede sono morto dicevo un sacco di cose di ottime migliorie tecniche di cose che comunque sia erano superiori a molti allora innanzitutto quelli che vedete sono una quantità sono delle animazioni e un livello di colori e di polifonia come ho già detto prima molto superiori a quelli che c'era presente all'epoca per questo motivo l'Amiga è considerato un piccolo gioiello tecnico per i suoi tempi che vanno dal dal penso tipo dall'85 a metà anni 90 insomma qualcosa del genere e io mi ricordo chiaramente che verso la metà degli anni 90 io ancora stavo giocando con l'Amiga se non fosse che l'Amiga non è come dire il Super Nintendo ce ne sono tantissimi di Amiga si va dall'Amiga 500 500 plus 600 1000 1200 2000 3000 4000 che non mi ricordavo nemmeno che esistesse poi siamo passati addirittura all'Amiga CD per essere al passo coi tempi però naturalmente sappiamo tutti com'è finita e l'Amiga è andato poco lontano tra l'altro ricordo qualche anno fa che era stato ritirato fuori in qualche modo nel senso che nel senso che nel senso che ragazzi mi ha preso un colpo e sono metà vita ma guardate quant'è merda questo gioco probabilmente me lo riscaricherò e troverò una versione con i trainer ovvero vi ricordate quelle cose che all'inizio del gioco vi diceva vita infinite energie infinite ve lo ricordate se avete avuto un'Amiga essenzialmente perché era molto molto comune avere versioni piratate distribuite in modo in cui i crackatori che erano piccolissimi team di ragazzi sparsi in giro per il mondo aggiungevano codici iniziali aggiungevano codici iniziali che si potevano utilizzare per appunto avere vita infinita energie infinite crediti infiniti cose del genere penso che la tattica migliore per questo gioco sia essere aggressivi io non lo sono mi dispiace gioco io ci provo tra l'altro prima per dare un mattimo di senso a questo scempio che state vedendo ho anche i proiettili limitati me lo sono accorto adesso ok quello adesso è morto ok te muori adesso fa che culone vabbè entro qui entro qui ok adesso guardate come muoio male perché quella piattaforma è veramente stronza e non ci arrivo però ricomincio da qua va là io vorrei prendere quella roba là sopra che tipo mi serve muori muori all right dicevo questo gioco per le feature che aveva per le aggiunte tecniche quella roba là non ci provo neanche a prenderla tutto è pazzo uh è andata bene sono a vita piena è affascinante ok sono mai arrivato così lontano dicevo le caratteristiche caratteristiche tecniche superiori a quelle che erano le cose dell'epoca facevano sì che se te avevi una miglia 500 come avevo io a casa la cosa era lenta lunga a caricare e molto difficile da gestire a livello di tecnico insomma diciamo che c'erano dei cali di prestazioni non era così liscio come lo vedete adesso la versione della miglia che sto emulando in questo momento è la miglia 4000 l'avevo anche accennato durante il video dell'altra volta su Rainbow Island quant'è un pro nope ok oh guarda c'è della vita non penso sia una vita intera chissà eh ma vacca gacca no è morto è morto eh però io eh là sopra non ci si ritorna mai 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 più come diceva Zekila mai epa no la cosa serve mettermelo qui quando è inutile proprio vabbè sono a metà vita e come cacchio scendo io mi faccio male se scendo da qua no tocca casa addosso ragazzi ok vabbè proviamo ad andare avanti ricordi miei personali dicevo riguardo a questo gioco in particolare perché l'ho scelto a parte la musica che ripeto io sono andato a rivedermi su youtube in questi giorni alcuni dei titoli della mia infam va ma c'è la vita là sotto ma c'è lo squalo va che merda aspetta aspetto che ritorni e vedo se riesco a prenderla eh ebbe è solo una pessima idea ma eh va va eccolo l'ho presa non ho preso i proiettili ma me ne prega assolutamente niente questo salto lo vedo proibitivo però la farò ma proprio nope no vai su culone d'un Mel Gibson e allora rientro qua dentro non so se se bo ah si qua è il salto muori stronzo dicevo la musica è fantastica ma quello lo state sentendo da voi e spero che vi piaccia la versione che ho fatto un po' di tempo fa no no ragazzi non lo volevo fare per nessun motivo al mondo che culo vabbè ahm la versione rock che ho rifatto io questo gioco dicevo io non lo potevo giocare a casa mia perché io avevo una amiga 500 e la amiga 500 non ce la faceva o meglio ce la faceva a malapena ci provava ci provava proprio con tutto se stesso ma non riusciva più di tanto ahm allora io non lo devo toccare perché altrimenti fa come Castelvania e mi butta di sotto quindi adesso proverò a sparargli tipo vabbè almeno mi ha buttato indietro in qua ho ripreso la vita quindi va bene ora io dovrei riuscire a fare questo salto per andare di là e prendere la roba che c'è rimasta il mio amiga non ce la faceva però c'era vabbè mio padre che vabbè già stava per conto suo e era sempre stato un appassionato di queste cose di motivo per cui c'avevo l'amica in casa era per colpa di mio padre e avevo tanti 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 giochi ma soprattutto lui aveva sempre la versione più aggiornata di tutto e a me mi capitava quella magari un po' più arretrata che lui non usava più eppa ce l'ho fatta ce l'ho fatta e e ok però a parte lui e il suo e i suoi fantastici oggettini c'era anche mia zia mia zia l'ho frequentata poco quando ero piccola mia zia insegnava insegnava inglese e in casa aveva un'amica 2000 se non ricordo che era l'amica 2000 e io mi ricordo distintamente le domeniche passate a pranzo da lei l'andavamo a trovare e poi magari io mi ricordo che mia zia era una persona molto diciamo attiva politicamente va era molto c'aveva un piglio molto come dire sveglio e incazzosso e ce l'aveva sempre con qualcuno che di quelli che insomma che andavano al telegiornale non mi ricordo neanche di preciso qual era il caso io mi ricordo che ogni volta che andavo da lei ringraziavo e andavo e mentre mio padre e lei si mettevano a discutere di politica o chissà che cazzo era insomma ero piccolo non mi interessava più di tanto io me ne andavo nella stanza di là e mi piazzavo al suo amiga 2000 che mi sembrava l'apoteosi della scienza e della tecnica all'epoca e mi mettevo l'advocare a questo gioco che a sua volta per me rappresentava l'apoteosi della scienza e della tecnica perché per tutti i motivi insomma che vi ho già accennato e che non devo ripetervi di nuovo non so dove andare non so se sarà capito ho perso fin troppo tempo spero che vi piaccia questa animazione di Mel Gibson con la gobba io questo salto non ce lo posso fare e oltre qua non ci posso andare quindi ci sarà non mi sembrava che si potesse andare dall'assù cioè tipo se io mi butto da lì lì è ancora più indietro dove cazzo vado no? e tocco lo squalo crepo mistero però almeno non sono morto che vi devo dire e questo era cioè nel senso io passavo i pomeriggi pomeriggi con le 2-3 ore che ci voleva mio padre e mia zia a digerire e a bestemmiare contro l'attuale situazione politica dell'epoca in Italia ripetendo questo livello ancora e ancora probabilmente all'epoca l'ho scoperto come si faceva però io come dimostrato da questi video col passare degli anni divento più rincoglionito invece che più sveglio probabilmente all'epoca ce l'avrò fatto ad andare avanti a andare avanti questa volta eis no è un tasto è un tasto sono sicuro che è un tasto il tasto per sparare e poi c'è su per saltare guardate come muore Mel Gibson e là seriamente? seriamente? non l'ho mai saputa questa cosa in vita mia cosa? no c'era la corda c'era la corda l'ho vista la corda scusate eh non vorrei farlo troppo lungo questo video però ho appena flashato tantissimo di una roba di un ricordo vecchio di 25 anni quanto cazzo sono eh e mi sto cagando addosso però eh se cado troppo io mi faccio male là sotto c'è una corda ma non ho capito come raggiungerla di preciso tipo va là non l'avevo neanche vista non l'avevo neanche minimamente vista peccato che sono all'ultima vita eh forse non sono all'ultima vita no no stai scherzando gioco stai scherzando il gioco sta scherzando e io non posso tornare indietro se non fare la stessa roba con la corda due balle eppa ma questo gioco non ha più segreti ehm culo non posso spiegarvi la difficoltà di saltare premendo in alto dopo essere abituato per tutti questi anni a avere un cacchio di salto col tasto insomma tiritiri 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 tim occhio qua eh allora io da qua devo riuscire a saltare e prendere il poso eppa ok questo ha sprecato aspe... no mori ok eeeh oh no ahahahahe crepa campione del mondo ragazzi sto facendo una prestazione si vede che a forza di distronzate riesco a catalizzare il mio il mio modo di giocare nel non sentirmi completamente un imbecille cosa che è irrealistica da parte mia me ne rendo conto però non mi sto rendendo minimamente conto di quanto sia venuto lungo questo video probabilmente troppo ok classico gioco delle piattaforme discontinue che si muovono come cazzo gli pare a loro eh più che altro la difficoltà di questo gioco sta nel fatto che c'hai tre vite le puoi per carità rifare però non hai nessun continua voglio dire anche Super Mario c'aveva i continua anche la gente non lo sa eeeh no vabbè dai ragazzi tanto l'avete capito io cercherò una versione con dei trucchi perché magari riuscirò a portarle in fondo tra l'altro come dicevo prima le versioni con i trucchi sono spesso e volentieri state quelle più comuni ancora di quelle eh normali perché c'era la pirateria dell'epoca era presente forse quasi più di adesso in tanti casi voglio dire oggi fortunatamente il mercato ci porta cose come Steam che ci permettono di avere dei grandi sconti 80 90% un gioco magari di grossa caratura comunque lo vai a pagare 2-3 euro durante i salvi quindi va bene all'epoca non c'era queste cose però c'avevamo gente tipo Skid Row Fairlight e questi ragazzi qua che inserivano la loro la loro locandina la loro parte colorata e divertente all'inizio di ogni gioco per farti sapere che erano stati loro a craccarlo e a portartelo e spesso e volentieri avevano la possibilità appunto di inserire cheat e vite infinite e cose del genere cosa che nel caso di alcuni giochi difficili come questo ti offriva almeno la possibilità di esplorarli e di vedere questi livelli di vedere come era fatto il gioco anche senza dannarsi l'anima e passarci la vita ragazzi direi che ho parlato abbastanza grazie per aver seguito questo video come al solito grazie per eventuali commenti grazie per eventuali sbuffate verso lo schermo che avrete fatto ma grazie lo stesso per la pazienza e per tenermi un pochettino di compagnia in questo agosto un po' rumpicoglioni vi voglio bene e ci vediamo presto ciao ciao